Si chiama Cassaforte di Famiglia, l'operazione dei finanzieri del Comando Provinciale che dalle prime ore dell'alba stanno eseguendo una misura cautelare in carcere e una ventina di perquisizioni nei comuni di Vallefoglia, Cantiano, Ancuna, Numana, Bologna, Roma e Frosinone, 16 gli indagati coinvolti, 3 gli studi professionali e altrettante le sedi societarie. Eseguito anche un decreto di sequestro preventivo di beni immobili per un valore di oltre 700 mila euro tra cui una villa di lusso nei comuni di Vallefoglia e Pesaro. L'indagine messa in atto è partita nei confronti di un imprenditore di 60 anni ben conosciuto nel pesarese e non solo che negli anni avrebbe portato al fallimento diverse società operanti nel settore della grande distribuzione e in quello edile. L'uomo che ne era il titolare insieme alla moglie avrebbe distratto i fondi accumulati in una fiduciaria chiamata da lui appunto Casaforte di Famiglia. I coniugi hanno una lunga storia legata ad aziende sparse in giro per l'Italia e nel tempo sono stati gravati da provvedimenti cautelari personali per reati di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale. Le fiamme gialle infatti sono partite dai movimenti finanziari eseguiti tra il 2011 e il 2014 a favore di una società pesarese, operazioni che sono risultate essere parte delle distrazioni patrimoniali compiute a danno delle sei società ormai fallite che sono state spogliate di beni, merci e denaro per un importo di circa 4 milioni di euro. Dopo aver accumulato debiti tributari per 2 milioni e 800 mila euro, la società pesarese attraverso la cessione del ramo d'azienda ha trasferito il patrimonio immobiliare a un'altra società schermo partecipata da professionisti compiacenti. Dall'ipotesi di reato iniziale di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte sono stati accertati ulteriori reati come l'intestazione fraudolenta di valori e il riciclaggio. Risultano indagati anche diversi professionisti e consulenti del settore che oltre a coordinare le operazioni sempre concordate con l'imprenditore si sono resi intestatari di quote sociali fungendo da prestanome per nascondere i reali beneficiari e la provenienza dei beni trasferiti.